Comincia il campionato di Serie C. Ci vede protagonisti perché quest'anno fortunatamente abbiamo due squadre in Serie C, una squadra che l'anno scorso non è riuscita ad andare avanti, è arrivata seconda, e poi l'altra squadra invece che viene fuori dal campionato vincente della D1 e quindi ci troviamo con due belle squadre. E per il circolo è motivo di orgoglio perché voi capite bene avere tutti questi giocatori, ci sono dieci giocatori in campo fra i migliori del circolo, è motivo di orgoglio prima del Presidente poi di tutto il circolo. Ed è bello Presidente anche vedere questa splendida cornice di pubblico. Sì, ci speravo perché per tanti motivi, prima perché l'interesse della manifestazione sportiva è sicuramente di livello, poi la giornata, grazie a Dio, sta facendo il resto e il pubblico ha risposto abbastanza bene. Subito a derby perché da regolamento se ci sono due squadre allo stesso circolo, nello stesso girone, devono giocare obbligatoriamente la prima partita. Un campionato che si preannuncia vincente, è anche imprevedibile forse? A vincente sì, ci sono squadre bene attrezzate, le partite saranno tutte comunque combattute, noi adesso per quanto riguarda la squadra abbiamo due incontri consecutivi fuori casa, la prossima domenica a Pisticci e fra due domenica a Venosa. La nostra come squadra è una bella squadra, abbiamo quattro singolaristi comunque tutti di livello, sì abbiamo anche una certa età e poco allenamento alle spalle, però comunque riusciamo ancora a difenderci. Dopodiché giocheremo degli scontri importanti anche in casa, per fortuna quest'anno, sulla Terra Rossa e contiamo di arrivare l'ultima giornata a punteggio pieno, l'ultima giornata che ci vedrà contrapposti alla squadra che in questi ultimi anni ha vinto sempre la Serie C, il TC Potenza, però avremo la fortuna di giocarcela in casa, sulla Terra Rossa, magari esce il colpaccio.